Allora, Gnatri, fiamo un trotto di mortadella di porco con la persa che ci dà il gusto. Ficcia la mortadella, dai, su, mescite, 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 fine, con i punti di tegamin. E la fai una, sì, ma 10 minuti, non 10 minuti. E con i porcini secchi della Val Trebbia. Quindi questi sono i fons e sciola. E la cipolla. E la cipolla. E la cipolla. Si le metti dentro il pulpitù e ci danno un po' di butto in bullo. Spantagalo bene per tutta la teglia. Spantagalo, dai, dai, gira la teglia. Brava, dai. Mettiamo fagioline nel polpertone. Il polpertone è tutto insieme. Il polpertone è tutto insieme. E lì ho cagato le mie galline. Le puffine, infatti. Sto qui sono andato a prendere le galline in quei postacce lì, di gente che lasciamo perdere. A Bergamo. A Bergamo. Sui parenti, eh. Sto qui sono belle ore. Mia, a te posso dire? Sono belle ore? Perché sono belle? Perché sono... Miele è un po'. Miele è un po', se non sono belle. Sono celesti. Colore del... Duma. Duma. Colore Duma. Duma. Mi vedo. Duma. 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 Mi ch spelare. Ok. Duma. Prima del pan grattato? Sì. Sì. Ah, pensavo dopo io. Ma anche mentre. Mentre? Quindi c'è... Posso avere mille mani. Spiro. Brava, da tutte le parti. Meno, meno. Ok, va bene. Cianin, cianin. Brava, ancora. Lì. Mi sa che che siamo, perchè ha fatto una bella crostina Shorty pulpetto Che sei? Oh, mi ha chi? Mi ha chi il pulpetto, un'usenese Beh, io anche il pulpetto Una bontà Una prelibatezza